Passato il Natale, si avvicinano i saldi, Marina Dolci, Associazione Viviamo Pescara, come sono andate le vendite prima e dopo Natale e cosa ci dobbiamo attendere per i saldi di gennaio? Allora, sicuramente speriamo dei saldi positivi, visto il 2016-17 che non è andato benissimo. Le vendite sono state altanelanti, abbiamo avuto un Black Friday di fine novembre positivo e poi l'attesa era comunque di qualche giorno di riposo di tutti per gli acquisti, invece è durato un pochino troppo. Quindi le spese per Natale si sono riprese dal 15 di dicembre, abbiamo avuto due weekend abbastanza importanti per il lavoro per poi avere un semicrollo finale il 24, perché la domenica della vigilia, quindi tutti quanti con i bambini a casa a fare colazione, a stare tranquilli, quindi c'è stata una vendita molto molto lenta. Si è confermata comunque la consuetudine di fare gli acquisti di Natale proprio negli ultimissimi giorni, è così? Sì, assolutamente. Negli ultimissimi giorni si pensa al regalo. I saldi inizieranno il 5 di gennaio qui a Pescara, in Abruzzo, e ci aspettiamo una buona ripresa. La qualità dei negozianti di Pescara è sempre altissima, ci teniamo ai nostri clienti, ci teniamo al centro città e quindi vi aspettiamo in tanti. Centro commerciale naturale, centro di Pescara, sono state tante le iniziative messe in cantiere quest'anno anche dall'amministrazione comunale, siete soddisfatti? Sì, siamo soddisfatti, c'è stato un buon ritorno.